Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vogliamo dare 10 consigli pratici per risparmiare in cucina, proprio in tutto l'ambiente che riguarda la cucina, sia quando fate la spesa, sia quando cucinate, tutto 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 in cucina. Il primo consiglio è non comprare in eccesso. So che siamo sempre molto invogliati quando si va a fare la spesa, magari ci sono tante promozioni, a comprare molta roba in più, molta più di quella che ci serve. Invece sarebbe utile e sarebbe più economico comprare solo quello che ci serve, quindi evitate di comprare quantità industriali di verdura, quantità industriali di prodotti freschi e così via. Il rischio è di non riuscire a consumarli prima della data di scadenza, e infatti soprattutto per i prodotti freschi, le verdure o la frutta, capita spesso che vadano a male, si rovinino e avendone comprate tante facciamo difficoltà poi a smaltirle. A questo proposito è molto utile realizzare sempre la lista della spesa e collegarci una piccola organizzazione, un piccolo menù settimanale, anche molto indicativo. A questo proposito vi lasciamo in descrizione tutti i video che riguardano il menù settimanale, la costruzione, la lista della spesa, eccetera, eccetera, sono delle cose che portano via davvero poco tempo, ma in questo modo riuscite ad avere una panoramica ottima di quello che vi servirà a comprare quindi le cose giuste ed essere anche molto molto più organizzati nella gestione dei pasti. Il secondo consiglio è processare sempre le cose che ci avanzano, ad esempio abbiamo comprato, non so, delle banane, ne abbiamo comprate tante, se vediamo che si stanno maturando un po' troppo iniziamo subito a utilizzarle oppure metterle ad esempio in congelatore, farle a pezzettini per avere sempre la banana congelata per fare ad esempio degli smoothie, o non so, abbiamo comprato tanto pane, si è indurito, iniziamo subito a frullarlo per realizzare il pane grattugiato, insomma evitiamo di far morire definitivamente quell'alimento, piuttosto processiamolo prima e utilizziamo il congelatore per aiutarci. Ancora, se avete tanti funghi che si rovinano in fretta, si rovinano facilmente, potete tagliarli tutti, metterli in congelatore, insomma trucchetti di questo genere vi salvano davvero dallo sprecare cibo e quindi anche soldi. Il terzo consiglio è quello di comprare sempre di stagione, comprare di stagione non solo fa bene a noi, fa bene all'ambiente, ma è spesso e volentieri anche molto più economico, ad esempio ora è inverno, le zucchine che non sono per niente di stagione ma si trovano tutto l'anno, hanno un prezzo 3-4 volte superiore rispetto a quando si trovano in estate che costano davvero poco, quindi cerchiamo di mangiare di stagione e riabituare il nostro ritmo alla stagionalità che è davvero molto importante. Quarto consiglio, comprare quando possibile tramite i gas o i mercati, questo per quello che riguarda di solito i vegetali o alcuni cibi secchi come legumi, cereali e così via, di solito nei mercati si trovano sempre ottimi prodotti magari biologici o coltivati con un certo criterio e hanno sempre dei prezzi davvero bassissimi. I gas sono sempre un po' più nascosti, poi bisogna comunque fare un'iscrizione il più delle volte, quindi sono un po' più articolati e anche molti di meno rispetto ai mercati che invece ci sono in ogni città. Basta informarsi un attimino e troverete sicuramente anche voi un mercato dietro l'angolo, sono sicura. Quinto consiglio, comprate quando è possibile i cibi poco pre-lavorati perché spesso tutte le lavorazioni che vengono fatte dalle aziende poi ve le fanno pagare ovviamente quindi magari un prodotto che ha due o tre ingredienti semplicissimi poi messi insieme ha un prezzo molto più alto rispetto a quei due o tre ingredienti presi separatamente. Quindi quando potete, anche per una questione salutare, perché spesso questi cibi poi vengono addizionati con tante cose poco sane, cercate di comprare meno cose elaborate, meno cose pronte. Idem per il pane, cercate di non comprare il pane comune, quello che si secca subito dopo un giorno è già un mattone, potete soltanto utilizzarlo per farci il pane grattugiato o piuttosto comprate un pane integrale, un pane casereccio, magari fatto con della pasta madre che indurisce molto di meno e vi fa decisamente meglio. Il sesto consiglio è quello di usare il coperchio molto di più quando si fa bollire la pasta, anzi l'acqua per la pasta, quando si fanno le zuppe, quando si fanno i minestroni questo perché tutto quello che c'è all'interno con il coperchio arriva a temperatura molto più velocemente e mantiene questa temperatura calda con meno sforzo, meno energia e quindi anche meno gas. Settimo consiglio, usate il forno con criterio. Il forno assorbe davvero tantissima energia per arrivare a temperatura e mantenere delle temperature molto molto alte. Quindi accenderlo, spegnerlo o accenderlo soltanto per una cosa piccolina è tutto quanto uno spreco di energia non indifferente. Ad esempio se dovete cuocere due o tre polpette utilizzate la padella piuttosto che il forno oppure se avete delle cose che devono cuocere provate a cuocerle insieme o una subito dopo l'altra in modo da non dover spegnere il forno e non doverlo soprattutto riaccendere. Un'altra cosa importante quando si utilizza il forno è evitare di preriscaldarlo inutilmente. Ad esempio tutte le preparazioni che non siano dolci, soprattutto i dolci molto delicati come pan di spagna, torte eccetera eccetera non hanno bisogno del preriscaldamento. Spatiamo questo mito, mettere le lasagne nel forno freddo e poi farle cuocere accendendo il forno vi permetterà di avere delle lasagne ugualmente buonissime. Anche i biscotti vengono bene anche senza preriscaldare il forno. In questo modo risparmiate davvero tanta tanta energia. Ottavo consiglio, comprate gli elettrodomestici giusti per voi. So che per chi è appassionato di cucina ogni volta che ci sono degli elettrodomestici o comunque delle cose che si utilizzano appunto per cucinare sono sempre delle cose irresistibili. In realtà dobbiamo un attimo considerare che cosa ci serve e che cosa no. Quindi cerchiamo di investire il nostro budget in prodotti ed elettrodomestici davvero utili per noi stessi. Ad esempio, io utilizzo tantissimo l'estrattore. L'estrattore ha un prezzo abbastanza alto, è un elettrodomestico che insomma ci si pensa un attimo prima di comprarlo. Lo utilizzo talmente tanto, praticamente tutti i giorni, che riesco ad ammortizzare la spesa. Non è una spesa che va a gravare. Se invece non lo utilizzate molto spesso o vi piace bere un tocco di frutto ogni tanto, l'estrattore non farà per voi. Questo per farvi capire, sia per elettrodomestici più costosi che meno costosi, cercate di capire qual è il vostro utilizzo e poi fate le scelte giuste. A proposito di elettrodomestici, il nono consiglio riguarda le recensioni. Leggere le recensioni vi evita di prendere delle cantonate. A me è successo molto spesso, anzi, molto spesso no, ma a volte è successo di comprare un prodotto perché interessata o catturata da alcune specifiche, dalla pubblicità e poi non ritrovare assolutamente quello che cercavo. Quindi tutto quello che avevo letto non corrispondeva poi al vero. Poi mi sono andata a leggere le recensioni e ho scoperto che tutti quanti si erano trovati come me e quindi questo prodotto potevo non comprarlo, risparmiare dei soldi leggendo qualche recensione, spendendo quel minuto in più su internet. Se dovete comprare soprattutto qualcosa di costoso, leggetele sempre. Decimo consiglio riguarda l'utilizzo del frigorifero. Anche il frigorifero consuma costantemente energia, il frigorifero non è una cosa che accendiamo e spegniamo solo quando ne abbiamo bisogno, è una cosa che è sempre in funzione e quindi consuma energia sempre. Utilizzarlo nel modo corretto ci permette sia di farlo durare di più, sia di avere degli alimenti in frigo che ci durano di più e anche di risparmiare un po' di energia perché ogni volta ad esempio che si apre la temperatura interna del frigorifero si abbassa e il frigorifero soprattutto quelli più moderni inizia a raffreddare di più per far tornare la temperatura bassa. È esattamente il contrario di quello che succede nel forno quando si apre perde energia e investe più energia per riscaldarsi di nuovo. È importante ad esempio controllare periodicamente le guarnizioni che attacchino bene alla parete del frigorifero non siano quindi aperte, non siano rovinate per evitare di far uscire dell'aria fredda. Ovviamente è anche importante non aprirlo e chiuderlo di continuo, non lasciarselo aperto, queste sono cose banali. Una cosa invece molto importante è tenerlo sempre pulito, basterà anche semplicemente passare un panno con dell'aceto proprio per rinfrescare, per togliere magari tutti i pezzettini di cibo che sono caduti o delle verdure che nel frattempo si sono marcite magari sul fondo del cassettone e cose di questo genere. E inoltre, ultimissima cosa, ricordate di chiudere sempre con la pellicola, con dei coperchi, mettere magari in un contenitore tutti i cibi che andate ad inserire all'interno del frigorifero. Gli alimenti in frigo devono essere sempre chiusi. In questo modo non verranno contaminati e dureranno di più e quindi risparmiate anche perché andrete a buttare via meno cibo. Infatti se ci fate caso, ad esempio non so se lasciate una mela, no la mela forse è l'esempio sbagliato perché ossida alla velocità della luce, comunque se tagliate un ortaggio lo lasciate così in frigorifero senza nessuna copertura o lasciate ad esempio un pesto dell'hummus sarà molto molto più rapida la formazione di muffa rispetto a quando lo coprite con una pellicola o il coperchio di un contenitore. Mero persa! Se avete altri consigli o fate voi altre cose, mi raccomando fatecelo sapere perché siamo molto interessate. Intanto vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo con i prossimi video sempre qui sul canale. Ciao!